Che ti stai mangiando, tesoro? Yogurt al mirtillo con fiocchi di camut. Camut? Bella monnezza. Che stai facendo? Cosa stai facendo? Tra un'ora c'hai l'analisi, non puoi mangiare. La mamma è chiusa. Devi stare a digiuno. Non t'azzardare, eh? Apregnoni che fate la fila! Rivellatevi! Io non ho fatto l'impegnativa! Non ho il ticket in più, sarò raccomandato da mio figlio che fa pure il comunista. Ma te stai zitto! Scusate, non è vero, eh? Non è vero, abbiamo fatto tutta la trafila, è tutto regolare. Complimenti, signorina. Buona. Servo una mano? Magari. Vi hai dato la schiacciatina a queste di canta? Elena, mia fidanzata, dai. Elena, bellone, storico. Elena di tronio. Allora, vai, basta, eh! Scusi, imbado, Otto. Ma com'è sta storia che è un po' che si è giocata davanti a tutti? Calma, calma, signorina. Non c'è nessuna anomalia. Siamo in Italia. Io sono ricco, passo davanti. Lei è povera, si attacca al canse. Eccolo. Eccolo. No c'è nessuna totta la mia ragazza che condivassero a tutte leasmинки,